E' stato un restauro minuzioso e rispettoso dei suoi 200 anni di storia. Dopo tre mesi di lavori, la pasticceria Cova ha riaperto i suoi locali milanesi, meta di turisti e clienti di lunga data. Dalle vetrine agli interni, l'iconica bellezza di questo caffè storico milanese è rimasta intatta. Le calde tonalità dell'oro del Mogano si alternano ai velluti blu e agli specchi alle pareti. I colori primaverili delle confezioni pasquali occhieggiano delle vetrine tra via Monte Napoleone e via Sant'Andrea. Il bancone, Mogano lucido e marmo italiano, continua ad accogliere i clienti all'ingresso. Ci siamo ritrovati sempre nella stessa casa proprio e abbiamo riaperto la porta solo un po' più freschi e ripuliti, mi piace dire. E' stato un bellissimo progetto dove l'obiettivo era conservare. Quindi questo è stato un po' il leitmotiv di tutti questi tre mesi. E fino fino proprio abbiamo ripreso tutti i dettagli, tutte le particolarità che c'erano e le abbiamo veramente solo ripulite. Paola Faccioli, il CEO di Cova, è entusiasta di quello che chiama il refresh della pasticceria nata nel 1817 all'angolo tra Via Verdi e Piazza della Scala e trasferita poi nel 1950 nell'attuale sede. Dopo questi tre mesi di lavori, oggi la pasticceria che è controllata dal colosso del lusso francese, Louis Vuitton, Moët Nessy, presenta però delle importanti novità. Qualcosa di nuovo dovevamo alla fine proporre, no? Quindi ci siamo allargati di un'altra stanza che abbiamo soprannominato Sala Nabucco, così non facciamo torto a nessun artista, e da qui si accede alla corte, quindi a quello che abbiamo soprannominato Cova Garden, quindi questo spazio bellissimo in questo cortile del Piermarini che abbiamo adibito proprio a salotto per pranzo. Cova Garden, con una paternità così nobile come quella dell'architetto del teatro alla Scala, è un vero fiore all'occhiello, una di quelle chicche della Milano nascosta che questo marchio storico della pasticceria di lusso riserverà ai propri clienti, milanesi e nonno. È un marchio importante, ma questo lo dico proprio vedendo l'entusiasmo di tutti i clienti quando sono entrati, proprio perché secondo me conserva tutta la tradizione che è tutta italiana, insomma, e detto questo siamo pronti per altri 200 anni.